La Grecia non è ancora fuori pericolo. Un portavoce del governo di Atene ha dichiarato che senza un secondo piano di aiuti il paese dovrà abbandonare la moneta unica. A marzo la Grecia dovrà rimborsare titoli di Stato per 14 miliardi e mezzo di euro. Prima di allora dovrà negoziare con Unione Europea, FMI e creditori privati il nuovo piano di aiuti da 130 miliardi di euro, concordato lo scorso ottobre.